la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno a tutti, bentrovati con l'appuntamento con la rassegna stampa di Uno News, apriamo con le pagine del mattino, si parla del processo a IRA per l'ILVA, per il caso dell'ILVA di Taranto, abbiamo visto sono 47 le persone rinviate a giudizio vediamo il titolo, tutti a processo ILVA nel caos, a giudizio in 47 c'è anche vendola, una ferita ma io sono pulito, famiglia Riva, amministratori locali e manager accusati di disastro ambientale, la camera si al salva Taranto sono 47 a giudizio dall'associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale, alla corruzione, a singole condotte in abuso d'ufficio, queste le le ipotesi di reato, nella fotonotizia l'importante scoperta della NASA, la scoperta dell'altra terra, ha un suo sole, forse c'è vita, il pianeta distante 1440 anni luce. Andiamo alla politica di fondo, lo strappo di Verdini, addio a Berlusconi, nasce un nuovo gruppo, danna a capo la svolta nel giorno dell'accusa per bancarotta. Per la cronaca di taglio alto l'inchiesta, schede sim intestate agli amici, la maxitruffa al Tar di Salerno, nei guai funzionari e promotori in quattro ai domiciliari. E ancora il caso Bifolco, minaccia in tribunale, sentenza rinviata a ottobre, omicidio colposo, chiesti tre anni e mezzo per il carabiniere. Vediamo come chiude questa prima pagina del mattino, l'Europa tassa anche l'aria condizionata, la nuova direttiva sulle emissioni, bollino di controllo obbligatorio. E nella fotonotizia la nuova strage, 40 morti tra i migranti davanti alla Libia. Per lo sport invece, caro Pipita, è ora di allenarsi sul serio, Iguain rientra lunedì, con Sarri non troverà i metodi soft di Benitez. Questa è la prima pagina del mattino nazionale, andiamo ora sulle pagine di primo piano, parliamo proprio del caso dell'Ilva di Taranto, andiamo ad approfondirlo quindi questo tema. Ilva anche vendola ha processo una ferita ma sono sereno. Con altri 46 l'ex presidente dovrà rispondere di concussione. La procura soddisfatta ha colto tutto il nostro impianto accusatorio. Vediamo una parte dell'articolo. I reati vanno dall'associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale e alla corruzione a singole condotte di abuso d'ufficio. Ieri la decisione del gruppo di Taranto, Gilli, di rinviare a giudizio 47 indagati coinvolti nei presunti abusi che avrebbero favorito l'Ilva a Taranto e ha fissato al prossimo 20 ottobre la data d'inizio di quello che si preannuncia a tutti gli effetti come un nuovo maxiprocesso. Andiamo di taglio basso, da 20.000 a 11.000 operai, ecco la cattedrale del disagio mezzogiorno. La vita della fabbrica è legata a quella di Taranto, azienda nata pubblica e finita ai Riva. Lasciamo anche questa pagina, andiamo ora invece sul mattino di Salerno, quindi andiamo ad approfondire i temi che interessano la provincia salernitana, in particolare si parla con il caso delle schede SIM al Tar di Salerno, vediamo le schede del Tar ai pregiudicati, maxi truffa al tribunale e alle compagnie, nei guai funzionari e promotori, in quattro ai domiciliari. Schede SIM intestate ad amici e parenti della banda, danni per 500.000 euro, coinvolto l'ex segretario generale. Il retroscena, 30 dipendenti e 1.300 tessere, un caso unico. Per il processo, sempre per la cronaca, delitto stellato, ergastolo per il killer. Ci spostiamo di fondo dalla regione, commissioni, Picarone va al bilancio, mentre per i trasporti, aeroporto, ultima chance, SOS a De Luca. A centro pagina, scuola, l'assalto dei 157 ex precari, scattano le prime assunzioni, oggi la corsa all'ufficio scolastico per firmare i contratti. Per la salute invece il ticket per i ruggi, ora si paga alle poste. E ancora la fotonotizia, si parla dei crolli del viadotto, due progetti contro le frane. Per quanto riguarda le notizie sportive, troviamo la salernitana in primo piano, rinforzi salernitana, torrente in pressing sullo Tito. Questa è la prima pagina del mattino di Salerno, restiamo su Salerno e andiamo sul caso di cronaca, sulla notizia di apertura, che parla della truffa alle schede SIM presso il TAR di Salerno, vediamo l'inchiesta scandalo, maxi truffa delle SIM in tribunale, nei guai funzionari e promotori, quattro arresti domiciliari, provvedimenti restrittivi per altre sei persone. L'indagine, la finanza allertata dal dossier dei vertici giudiziari, sequestrati 500 mila euro. L'altro caso di cronaca che abbiamo visto sempre dalla prima pagina, si parla del delitto stellato, il PM non fa sconti, ergassolo per il killer. Durissima requisitoria in aula, l'antimafia chiede pene pesanti anche per gli altri ragazzi del clan. Lasciamo anche questa pagina, andiamo avanti sempre sul mattino di Salerno, parliamo dei trasporti, si parla in particolare in primo piano dell'aeroporto Costa d'Amalfi, vediamo, si chiede l'intervento del governatore De Luca, aeroporto, il titolo l'ultima chance affidata a De Luca, perdite per 6.500 euro al giorno, oggi l'assemblea dei soci affronta il disastro dei conti. Il caso rimangono in forse 290 mila euro stanziati dalla Camera di Commercio dieci giorni fa. Per quanto riguarda invece la sanità, ASL, il congedo di squillante, così ho risanato il bilancio, il manager presente i numeri della sua gestione, il mandato scade il 2 agosto. Ancora lo scenario, il DG è pronto alla proroga fino al prossimo 18 settembre, difende il suo lavoro, il buco non c'è più. Lasciamo anche questo tema, ora andiamo invece a vedere quali sono le notizie che interessano il territorio del Cilento e del Vallo di Diano, di taglio basso a Vallo della Lucania, Valiante, la cilentana si è aperta tutti i giorni, appello a Canfora dell'ex numero 2 della regione, è inammissibile non riuscire a garantire vigilanza e sicurezza. Deve essere riaperta tutti i giorni, non solo dal venerdì a lunedì, è chiaro il messaggio rivolto dal consigliere regionale uscente Antonio Valiante al presidente della provincia Canfora in merito alla riapertura parziale solo nei weekend in direzione sud del famigerato viadotto chiusa della strada cilentana, è inammissibile che il tratto sia aperto solo tre giorni perché non si riesce a garantire la vigilanza per tutta la settimana. Ad Agropoli invece a invasione degli ambulanti, task force del comune stretta dopo le proteste di turisti e cittadini. e lasciamo le pagine del mattino, ora andiamo a vedere invece quali sono i principali argomenti trattati dal quotidiano la città, quindi andiamo sulla prima pagina del quotidiano, anche la città si occupa della truffa per le schede sim al Tar di Salerno, vediamo il titolo, la gang dei dipendenti del Tar truffavano con le sim funzionari arrestati, alcune schede sembra siano andate anche alla camorra, nel meccanismo della truffa ci guadagnavano tutti i promoter delle società telefoniche che lucravano provvigioni, i complici del Tar che ottenevano schede sim e telefonini. E andiamo nella fotonotizia, Salerno, sciopero dei posteggiatori, basta con i tagli, sprecate meno, i dipendenti di Salerno Mobilità proclamano 4 ore di sciopero dalle 20 alle 24 di domani, sotto accusa il mancato adeguamento economico a quanto previsto nel contratto nazionale di lavoro, tutto questo dicono mentre in azienda si procede a promozioni e assunzioni di dirigenti, l'assunzione sotto accusa è quella di Alberto De Sio. Continuiamo la cronaca, il processo delitto stellato, il PM e il gastolo per Villacaro e per una tragedia, beve una bibita ghiacciata, muore un operaio, cercava refrigerio e ha trovato la morte, operaio stroncato da una congestione ad eboli. Di spalla la scoperta della NASA, scoperto un pianeta cugino della Terra, la NASA ha scoperto un pianeta simile alla Terra con un proprio sole che si trova in una zona abitabile, distante circa 1400 anni luce, è stato scoperto grazie al telescopio spaziale Keplero. Mentre per le notizie nei box in alto comune, tensioni nella maggioranza per le poltrone da assessore, per la regione commissione bilancio, picarone nominato presidente e per la sanità, la conferenza stampa di Antonio Squillante, i conti dell'aslo inattivo ma i debiti sono troppi. Vediamo come chiude questa la prima pagina della città per la Salernitana, lo Tito Junior che coppia Euseppi e Khalil. E ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria ci prenderemo tra pochissimo con il resto dei nostri quotidiani. Bentornati alla seconda parte della nostra segna stampa che apriamo con le pagine di Le Cronache anche le cronache. Come tutti i quotidiani salernitani si occupa della truffa al tar di Salerno sulle schede SIM. Vediamo infatti il titolo, truffa al tar, quattro arresti, sei persone destinatari dell'obbligo di presentazione al PG coinvolti residenti a Cava, Capaccio e Nocera. Sono i promotori Carlo Avallone e Vincenzo Adinolfi. Il segretario Felice della Monica è un dipendente. Cellulari e SIM del tribunale destinate a persone strane alla pubblica amministrazione. Andiamo avanti nella fotonotizia per l'omicidio stellato, il gastolo per Villacaro, la replica, bene anche l'isolamento. Chiesti per Giovanni Zullo, 9 anni, 18 per Ivan del Giusto e 12 per Salvatore Nigro. Continuiamo, Cava, Ergon, Aogliara, progetto bocciato, la maggioranza silura a Di Maio che non si presenta in commissione. A Bellizzi, Bellizzi in ginocchio ai funerali dei giovani Simone e Gerardo, sta meglio intanto Simone Pisani che è stato stubato. A Ogliastro coltivava Ascici in casa, ha preso un incensurato e a Scafati trovato morto in un albergo l'avvocato De Pascale. Per la regione passiamo alla commissione, commissione bilancio e Picarone, il nuovo presidente. È ancora la cronaca, la tragedia bibita fredda fatale per un 37enne di Giffoni, mentre a Nocera Blitz della Finanza al piano di zona. Queste le notizie in breve riportate su questa prima pagina di Le Cronache. Ora andiamo invece sulle pagine dedicate alle notizie della provincia di Salerno, in particolare nel Vallo di Diano. Parliamo, andiamo a Monte San Giacomo, ancora una volta la strada che collega Sassano a Monte San Giacomo, la strada principale chiusa al traffico per caduta Massi. Vediamo pietre dal costone, disagi e polemiche. L'ira del sindaco accetta perché chiudere la strada provinciale 72 a causa del provvedimento cittadini costretti a deviare per Sassano. Andiamo di fondo. Pro Sicignano, Lago Negro, il comitato e l'assessore continua con costanza l'impegno del comitato Pro Ferrovia Sicignano, Lago Negro, che ha incontrato nella sede della regione Basilicata l'assessore dei trasporti Aldo Berlinguer e l'ingegnere Donato Arcieli. Una visita in regione più che positiva, commentano dal comitato. L'assessore fanno sapere e ha convenuto con le proposte fattive presentate dal comitato. Andiamo di taglio alto. San Pietro Altanagro, Vallo di Diano, invitato al banchetto nuziale, muore per un infarto. Un uomo di 67 anni, originario di Laurenzane, è morto stroncato da un infarto fulminante mentre si trovava ad un banchetto nuziale. Andiamo di taglio basso. Auletta, il sindaco Pessolano, tutela ambientale e salute prima di tutti. Una sentenza del TAR ha accolto le richieste avanzate dal comune di Auletta nei confronti di una società. La sita è impegnata nella realizzazione di un impianto ricetrasmittente per telefonia mobile. E lasciamo le pagine di Lecrona che andiamo ora sul Corriere del Mezzogiorno. Vediamo dalla prima pagina si va a Napoli, addio al Village sul Lungomare. Il sindaco revoca l'appalto per l'evento estivo, allestimento scadente e artisti mai arrivati. Dopo sei giorni chiude la rassegna che avrebbe dovuto portare spettacoli e animazione in via Caracciolo. Andiamo di taglio alto. De Luca e De Magistris, patto su Bagnoli, rinasce l'asse tra governatore e primo cittadino accordo su stadio e fondi dell'Unione Europea. Nella fotonotizia a centro pagina la bella storia di una giovane di Aversa Adele, 21 anni, la più giovane laureata della Lewis, la ragazza di Aversa definita un talento italiano. E nell'intervista Roberto Bolle accusa al Pompei Festival sono rimasto solo io domani al Teatro Grande. Vediamo come chiude la prima pagina del Corriere del Mezzogiorno fuoco a Gianturco, acqua su tutta Napoli rogo in due capannoni, via ai controlli sull'aria, 15enne colpita da un fulmine. E ancora la polemica, Bassolino ha ragione lasciai Santa Lucia in nome di Ravello. Lasciamo questa prima pagina, andiamo nelle pagine interne dove troviamo la notizia di Salerno che parla proprio della truffa all'interno del TAR di Salerno, posta in essere dai dipendenti del Tribunale. Vediamo schede sim intestate al TAR e distribuite ad amici truffa a Salerno. Sono 12 gli indagati e sequestri per 500 mila euro. Le accuse abuso e peculato. Lasciamo il Corriere del Mezzogiorno, vediamo ora invece le notizie per Metropolis. Il titolo riguarda proprio la notizia appena vista, quindi la truffa al TAR di Salerno sulle schede sim. Vediamo truffe al TAR, arresti e indagati, falsi contratti telefonici al Tribunale amministrativo, danni per mezzo milione di euro. Blitz della Guardia di Finanza ai domiciliari, broker, dipendente ed ex segretario generale. Andiamo avanti. Ancora Salerno, omicidio stellato, il PM, ergassolo per Villa Caro. E sempre Salerno, estorsione all'avvocato Cembalo, preso un 53enne. Di spalla, scafati, aliberti, opposizioni, apertura sul bilancio e sempre scafati di qualificazione centro storico, pronto il progetto dei vetrai. Vediamo a centro pagina. Ieri la conferenza stampa all'asl di Salerno di Antonio Squillante. Prima di concedarsi dal suo ruolo di direttore generale dell'asl, vediamo Asl Squillante Lascia, 426 milioni di debiti. Andiamo avanti. Nocera, morte all'Umberto I, medici sotto inchiesta, decesso di una vellinese dopo un incidente, camici bianchi e un'automobilista nei guai. A Battipaglia lotta alla prostituzione, modello Salerno fa scuola, mentre a Pagani delitto Asis scadono i termini, carcere annullato per i killer. Per lo sport, amore salernitana, la moglie di Lotito, lascerei la Lazio. Continuiamo, calcio di serie B, mercato Granata, Fabiani, punta, contessa e Perea, mentre in serie D, Cavesi, a grandi firme, città di Nocera, Cellordi. Questa è la prima pagina, ora andiamo nelle pagine interne, in apertura sulla pagina dedicata alle notizie della provincia, della parte sud della provincia di Salerno, giro di vite contro la prostituzione, dopo Ponte Cagnano anche Battipaglia segue il modello Salerno, c'è l'ordinanza dei commissari per intensificare i controlli sul litorale. Aolevano sul Tusciano scopre una malattia e si toglie la vita, anziano si toglie la vita con un colpo di pistole, è accaduta nella tarda mattinata di ieri, si è tolto la vita all'intorno della propria abitazione, il grave episodio ha scosso una tranquilla giornata estiva dei Picentini, l'anziano con tutta probabilità è giunta alla decisione estrema dopo aver scoperto di essere affetto da una grave patologia. Andiamo a centro pagina, Bellizzi, Gerardo e Simone, lacrime infinite, folla oceanica, Bellizzi per l'ultimo saluto, ai giovani Rocco e Farella. Di fondo, venditori abusivi, pronta la task force ad Agropoli e a Eboli, schiando in centro, ferite due donne. Di taglio basso, Ponte Cagnano, furti nelle auto, sgominata la gang, i fratelli Ametovic arrestati mentre stavano forzando una Fiat Punto. Le notizie in breve di spalla, Giffoni, bibita ghiacciata, fatale per un operaio di 37 anni, a Sala Consilina, infarto al banchetto, stroncato un 67enne e a Ogliastro Cilento, droga e armi, preso Lanzallotti. E con le pagine di Metropolis termina la nostra segna stampa, vi ricordo alle 13.45 l'appuntamento con il nostro TG. Vi ringrazio per averci seguito e auguro a tutti una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.